Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, accidenti anche le cuffie Sì, devo essere a posto, ciao a tutti Perfetto, allora, trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni il mio indirizzo è Piazzale Parmesan Otto Marghera Francesco raccontami qualcosina di decente Sì, noi dobbiamo dire un paio di cosette importanti Beh, soprattutto, visto che qualcuno ha lanciato l'idea di fare un acceno, un piccolo incontro tra un po' di ascoltatori della radio per quanto riguardava i dieci anni della trasmissione perché noi siamo entrati in questa serie nell'undicesimo anno 21 novembre 1996 Allora, appunto, visto che poi la radio quest'anno festeggiava i trent'anni e questa è la trasmissione festeggi dieci anni di continuità senza nessuna interruzione e l'amico Ferdinando ha detto di facciamo una piccola cena fra alcuni ascoltatori per chi è interessato e ricordo, appunto, che domani sarà Marostica e ci troviamo per questa cena per chi vuole avere informazioni, contatti, vuole chiamare e può chiamare il 338 319 77 20 per avere, appunto, le informazioni su dove trovarsi Comunque, grosso modo, alle ore 21 in un ristorante di Marostica In tavoli, appunto, noi cercheremo di fare una cena il più possibile contenuta in maniera che ci sia la possibilità di discutere, di chiacchierare, di dire qualcosa di conoscerci a parte che penso che molti di quelli che saranno presenti già ci conosciamo però, appunto, trovavamo giusto avere questa piccola occasione visto che c'è stata la buona volontà di qualcuno di lanciare l'idea, di darsi l'incarico di telefonare a un po' di amici a un po' di ascoltatori ricordo, appunto, domani sera a Marostica alle ore 21 l'appuntamento è un po' prima ci metteremo d'accordo, appunto, in serata sul luogo di incontro questo appunto era una cosa che ha a che fare un po' con noi ed è una cosa che non ha direttamente come tematiche per la trasmissione io ricordo sempre Radio Gamma 5, logicamente perché deve essere il pensiero principale in questo momento le cose si sono stabilizzate faccio gli auguri a Paolo e probabilmente il mega impegno il presidente della radio il mega impegno, le energie che ha caricato, dato l'ha messo in condizioni fuori combattimento io gli faccio gli auguri di ritornare quanto prima in condizioni fisiche ottimali e lo ringrazio per tutte quante le cose che ha fatto ringrazio fra tutti i quotidiani che sono occupati di Radio Gamma 5 anche il mattino di Padova che ha fatto un'intera pagina dedicata a Radio Gamma 5 ha messo addirittura le foto ed è anche in punto un bel servizio soprattutto perché sono arrivate anche delle televisioni che hanno ricordato l'esistenza di questa radio tenendo conto che sono 30 anni ed è bello che i mezzi di informazione di comunicazione locali ricordino questo spazio che è unico perciò auguri a Claudio dico auguri a Paolo grazie auguri a te per i dieci anni auguri a Paolo a Europa l'appunto che si ristabilisca sperando che lo faccia presto e ricordatevi sempre che sta radio ha sempre delle necessità Francesco posso dire un'altra cosa prima che iniziamo la nostra trasmissione allora niente io vi ricordo sempre l'uso che ne facciamo di internet perché tutte le cose che diciamo qui per radio in realtà vengono trasformate anche in pagina web e vengono caricate su internet io stamattina mi sono stampato quelli che sono gli arrivi i visitatori la qualità le pagine che aprono in internet di quello che facciamo e vi assicuro che i dati che ho qui sotto mano sono dati che lasciano abbastanza esterefatti cioè perché sono centinaia plurale di persone al giorno che vengono a leggersi le pagine in internet cioè è una cosa che non mai pensavamo io vorrei ricordare che nel 1999 Francesco ha iniziato veramente ci ha aiutato anche Marco Dimitri quella volta a mettere in internet le prime nostre cose con tanta fatica con tanto era il 1999 e quello che caricavamo in internet era ciò che veniva trasmesso in questa radio per cui le due cose le pagine in internet e la radio hanno sempre lavorato diciamo così in maniera sincronizzata diciamo così in maniera beh dobbiamo ringraziare anche Franco che si è dato un lavoro di trasferire da nastro a CD tutte quante le trasmissioni audio è arrivato già il 2002 per cui ci sono già quattro anni di trasmissione ormai quasi in internet si che ha fatto veramente un lavoro enorme diciamo che dobbiamo ringraziare anche chi ha scelto quel servizio che ci dà la possibilità di ospitare in maniera limitata documenti audio e comunque pensate che se uno vuole rinascoltare le trasmissioni dal 2002 adesso tenendo conto che Franco sta andando indietro colpito lungo nel tempo ma c'è una cosa più importante che Franco ha fatto un lavoro veramente gigantesimo che è quello di fare gli indici e sommare delle trasmissioni esatto praticamente voi nella nella pagina archivio non vi leggete soltanto il link per scaricarvi la trasmissione ma vi leggete anche gli argomenti principali che sono all'interno di quella trasmissione cioè quello che viene detto e che è una cosa veramente mostruosa e te lo ripete ci sono dalle 20 ai 30 persone al giorno che vanno a scaricarsi i programmi dai 20 ai 30 persone che ogni giorno che vuol dire 600-700 persone al mese che si scaricano i programmi e non mi sembra un dato notevole tutto sommato e oltretutto attorno a ripete centinaia di persone che arrivano a scaricarsi pagine web o pagine iscritte e cioè è una cosa veramente mostruosa tant'è che negli ultimi dati che ho io insomma da metà febbraio sono circa vediamo un attimino sono circa 85.000 pagine che si sono scaricati pari a circa 150.000 accessi cioè solo sul sito federazione pagana noi che dicevamo se vengono due persone al giorno facciamo 14 persone a 6 dimanze è stato un successo nel 1999 adesso sto dicendo che anche queste centinaia di persone che arrivano sono poche cioè si può fare ancora meglio per cui torno a ripetere il paganesimo ormai sta raggiungendo una sua realtà sostanziale cioè si sta rappresentando e dispiegando con tutta la sua forza e con tutte le sue variabili al suo interno tant'è che ci sono molte forze organizzate anche per tentare di fermare o per tentare di indirizzare il paganesimo per quello che loro vogliono per i loro progetti cioè c'è sempre qualcuno che deve dirati cosa devi o non devi fare cosa tu devi fare per metterti al suo servizio c'è sempre qualcuno che si fa dio padrone o padrone delle altre persone ed è una condizione che troviamo abbastanza spesso insomma però sta di fatto che le idee circolano e questo che non è fermabile cioè non si può come diceva Franco Carraro anche il microfono di questa radio voi potete fare tutto quello che volete per non far circolare delle idee ma se qualcuno ha la volontà di farle circolare le idee circolano perché è un bisogno della vita se voi pensate ad esempio a una cosa molto semplice ad esempio noi una cosa che abbiamo sempre fatto nei nostri reti è quella di documentare i reti dentro appunto il software fotografico abbiamo inserito appunto anche vari filmati se voi mandate sui video di google che sono molto famosi tra l'altro io direi di spendere una parola anche a favore di google ultimamente c'è stata quella polemica esatto in cui sono andati incriminati io trovo assurdo che la legge italiana vada a colpire un servizio così gratuito perché google in tutto sommato è un motore di estica che funziona bene il fatto che metto a disposizione dei gruppi che metto a disposizione dei video non vedo perché devono essere consente responsabili quando non fanno nessun controllo perché internet deve rimanere uno spazio libero deve rimanere uno spazio accessibile e google cosa fa? dà questa possibilità certo può essere criticata per la posizione rispetto al governo non c'è nessuna censura però i video sono una documentazione fotografica io voglio ricordare che ad esempio il video della festa dei Veneti di Cittadella con la sfera di Areitia è su google è su myspace ed è anche su youtube di conseguenza nessuno ha verificato questo se noi cominciamo a discriminare cosa viene caricato su internet allora un servizio deve essere gratuito e dato la disponibilità se si trova di fronte a un cattolico impedisco di caricare il video di Areitia vorrei fare una cosa molto molto ben precisa che ha a che fare anche con il concreto con la religione e giovedì scorso è stato ricordato il fatto del Vico d'Azari in cui il Vescovo ha preteso e stato imposto di andare in chiesa questo fatto è successo ad esempio anche a Bassano del Grappa il parroco di una frazione di Bassano del Grappa ha detto io non vado a benedire le chiesse se non metto i crocifissi e il comune è corso a mettere i crocifissi nelle aule ecoscolastiche bene e se il parroco chiedeva la circonsigione dei bambini chiedeva qualcos'altro le autorità scolastiche era così disponibile il responsabile scolastici a darglielo al parroco perché ha detto io non vengo a benedire soltanto se perché mancano i crocifissi e di conseguenza tornando sui costi di spazi liberi internet deve essere libera uno dà un servizio e uno si pensa io volevo intervenire su questo discorso qua sul discorso del video del ragazzo autistico che è stato picchiato e che il video è incriminato voglio far capire questo alle persone è vero c'era il video ma voi pensate che quel ragazzo è stato picchiato da dei bulli nella propria scuola e nessuno è intervenuto se questi bulli non fossero stati così deficienti di fare un video di metterlo su google non sarebbero mai stati scoperti però il ragazzo autistico sarebbe stato comunque picchiato per cui se può essere messa in atto un'azione di repressione di quello che è stato un vero e proprio crimine un vero e proprio delitto questo è stato possibile perché si è visto il filmato su google se non si vedeva il filmato questo ragazzo autistico non veniva nemmeno perseguito e se oggi come oggi c'è l'incriminazione di decine e decine di persone che vanno a ricerca di immagini pedofili che praticano la pedofilia che praticano il danneggiamento e questo è diventato motivo di allarme è perché i siti che vengono fatti la comunicazione tra pedofili fra quello che avviene può essere intercettata dalla polizia postale o di quant'altri per cui internet è fondamentale è fondamentale come strumento di comunicazione libera ed è fondamentale l'attività di repressione dei delitti che ne viene fatta dall'opera della polizia allora la polizia e nessuna società ha interesse di reprimere uno spazio che è libero uno spazio in cui tutte le persone possono postare quello che vogliono proprio perché questo permette alla società di intercettare o di reprimere dei reati quando sono effettivi cioè nessuno verrà mai in uno spazio libero a dirci a noi voi non dovete mettere il filmato sulla festa dei Veneti perché è un filmato che abbiamo fatto e così se qualcuno mette dei filmati con dei reati avranno invece dei problemi saranno invece repressi ma se si fa una repressione a monte dicendo solo i cattolici mettono i filmati solo se i filmati c'è la madonna li metti su sta di fatto che da un lato non si possono più scoprire i delitti fatti da alcune persone che vogliono millantarli e dall'altro lato invece si crea una situazione conflittuale nella società civile dove alcune persone che hanno delle esigenze di rispettare quello che è il dettato costituzionale delle persone che hanno esigenze di manifestare dei diritti e delle tensioni vengono represse prioristicamente costruendo un'altra situazione di difficoltà nella società civile per cui la libertà di internet in realtà cioè questi spazi in cui le persone possono andare anche pagando un certo prezzo perché costa internet costa il computer costa il collegamento costa i mezzi costa i programmi per fare le cose è un costo non è che sia gratis andare là diciamo che rispetto ad altre posizioni è un costo contenuto ed è un costo molto vasto cioè ti dà una vasta platea di osservazione però questo spazio così permette sia alla società civile di esercitare un controllo nell'applicazione delle leggi sia alle persone di esprimere le proprie cose che magari un giornale non gli pubblicherà mai magari l'editore non gli pubblicherà mai la cosa e magari altre cose non avverranno certo la società è fatta di tante sfaccettature ma le sfaccettature in cui esiste una libertà assoluta devono esserci guai se non ci fossero perché significa altrimenti costruire una società di galera cioè una società di un campo di concentramento dove le persone sono obbligate a dei comportamenti fissi e questo non è più accettabile in una società civile assolutamente infatti noi diciamo sempre che bisogna essere sempre consci delle conseguenze delle proprie azioni e quegli ragazzi che hanno fatto quel video in cui prestavano un ragazzo down pensavano forse di presentarsi come belli originali e hanno caricato i video su internet qualcuno altro ha visto quel video ed è intervenuto ma se quel video come diceva Claudio non ci fosse stato cosa sarebbe successo la scuola se ne sarebbe accorta se fosse questo qualche articolo avrebbe avuto una ripercursione soltanto a livello della zona forse e quanti leggono i quotidiani e invece quante persone sono state informate e quanto si è mosso perché questo video è andato a finire su Google mettiamo un'altra cosa una persona che l'ha messa poteva anche metterlo come denuncia non poteva avere la paura di dire vado a denunciarlo alla polizia vado a dirlo ai dirigenti scolatici vado a dirlo al preside poteva dire poi avergli anche fregato e dire ragazzi vi faccio diventare famosi mettiamo il video su internet in realtà ha fatto una denuncia di conseguenza è importante che le cose si sappiano certo le cose che sono violente sono violente e devono essere resse pubbliche non si può nascondere non si può fare la politica dello struzzo o di cancellare le cose o di dire politicamente corretto non facciamo vedere la violenza la violenza esiste sia che ne parliamo sia che stiamo zitti anche perché non dimentichiamoci una cosa che quel video c'era scoperta di quel video non ha semplicemente implicato la repressione di quei ragazzi ma ha messo all'interno del dibattito sociale quello che è l'immersione del fenomeno del bullismo all'interno delle scuole cioè quel fenomeno di far del male alle persone più deboli che esiste ormai e diventa sempre più pesante nella società civile ed è un prodotto del cattolicesimo è un prodotto dell'educazione cristiana che sta diventando un peso per la società civile e un peso significa un costo per la società civile significa mettere delle difficoltà ulteriori ai futuri cittadini ed è grave la faccenda per cui il fatto di aver scoperto quel filmato in realtà ha fatto partire un dibattito a livello nazionale che è in positivo dove le persone cominciano a essere più attente a quello che sono certi comportamenti magari si scopre che il proprio figlio se lo stoppi quando ha 12 anni a fare delle cose eviti che nel futuro ne faccia ben più gravi cioè per cui mette anche in attenzione quei genitori che vogliono essere in attenzione perché quei genitori che non vogliono avere attenzione continueranno a fare delle grandi cazzate perciò trovo assurdo che Google venga attaccato venga messo in chieste si attribuisca una responsabilità anzi noi dovremmo dire perché rendetevi conto una persona può anche dire delle cose annunciare delle cose e farle sapere e ha la possibilità di essere ascoltato di essere seguito che venga con una strana notizia tutti quanti ben voi sapete quante radio gamma 5 esistono in Italia una quante radio sono come le nostre in giro per il Veneto c'è soltanto radio gamma 5 bene internet ha la possibilità di fare quello che radio gamma 5 fa su queste onde radio ma di conseguenza attribuire a Google o a chi offre servizi gratuiti una responsabilità per i contenuti o per i video che vengono caricate è assurdo anche perché c'è sempre un discorso l'importante quando viene dato uno strumento è sviluppare la capacità di pensiero di idee e di iniziative dei ragazzi il fatto stesso che si faccia il filmato implica al di là del filmato di violenza ma anche di voler documentare una cosa di dare una memoria dalle cose e perciò chi ha la possibilità e noi ringraziamo Google come altri servizi che ci danno la possibilità di lavorare di essere presenti su internet che responsabilità hanno anzi vanno ringraziati siamo debitori del fatto che loro diranno queste possibilità e perché devono avere una responsabilità per quello che si dice perché a mio avviso si vuole sicuramente colpire internet come strumento di libertà perché facciamo un esempio concreto prendete una grande inciocometria considerata pubblica come Wikipedia è bastato che io mettessi il link al filmato dell'Iene sui preti pedofili il 12 di novembre sulla discussione sulla chiesa cattolica e dal 12 di novembre ad oggi nessuno è più intervenuto ad esaltare la chiesa cattolica o la brava la brava chiesa cattolica sulla pagina di discussione della voce chiesa cattolica non ho detto peste e corna non ho bestemmiato solo ho detto questo è il filmato fatto da una trasmissione commerciale fatta da una trasmissione televisiva su come si comportano i preti andate a vedere il filmato non è neanche commentato e tra l'altro se chi ha visto il filmato se ne rende conto benissimo 12 di novembre Wikipedia chiesa cattolica la discussione sulla chiesa cattolica si è affermata e perciò ricordate quando è importante uno spazio in cui si possa intervenire 25 novembre a Lipari figlio della perpetua abusò di un bimbo 15 anni al parroco per aver abusato per anni di un bambino di 5 anni figlio della sua perpetua l'ex parroco dell'isola di Lipari Alessandro Restuccia che adesso ha 88 anni è stato condannato a 15 anni di carcere per violenza sessuale dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 25 novembre 2006 questa notizia la trovate sulla Repubblica del 25 novembre la trovate sul gazzettino del 25 novembre 2006 e vi ricordo che è dal 21 novembre del 1996 che noi vi stiamo dicendo stiate attenti a quello che è il futuro dei vostri figli perché perché le persone devono attrezzarsi va Francesco sì ecco io voglio tornare tra l'altro sinceramente sembra che sono passati dei secoli da giovedì scorso in realtà è passato solo una settimana ma eventi situazioni impegni sembra che il tempo sia incredibile io voglio ricordare anche se abbiamo delle visioni contrastanti su questo film io parlo dell'elaborito del fauno io appunto ho avuto occasione di andarlo a vedere venerdì scorso e l'ho trovato veramente un film ben realizzato io invito gli ascoltatori che hanno la possibilità la voglia di andarselo a vedere il film per me ha anche parecchie chiavi di lettura dal punto di vista anche mitologico ed è anche un bel film ben realizzato si possono fare delle letture incontrastanti tra il comportamento corretto e bello della protagonista Ophelia che è la bambina e certe implicazioni bibliche di certi tipo Abramo e Disacco perciò visto che il film è uscito appunto giovedì scorso bene se qualcuno ha la possibilità ancora la voglia del desiderio se trova il film in giro se lo vado a vedere il labyrintho del fauno non merita di essere visto se poi qualcuno ha voglia anche di commentarlo benissimo perché io reputo che il film sia importante proprio perché dà una chiave di lettura dei comportamenti dà la possibilità di comprendere che è anche una situazione così grave ed è il lato che ha sconvolto Claudio della violenza perché praticamente questo film allora chiamo una cosa non è che Claudio si sconvolga dalla violenza diciamo così Claudio ha una sensibilità molto particolare rispetto a persone legate e torturate cioè io non lo sopporto e non lo sopporto perché perché l'ho ricevuta quella violenza oltretutto per cui è una cosa che è rimasta dentro ed è una cosa che è assolutamente intollerabile per cui per me quando un film ha questo tipo di visioni che sono assolutamente logiche all'interno del film cioè sicuramente il film dà esattamente la visione di un modo di essere un modo di comportarsi che in certi aspetti è finito in certo tempo però non è finito cioè nel senso che situazioni analoghe esistono ancora però diciamo così fa parte un po' di quella che è il bisogno della Spagna di rivisitare un po' il proprio passato e naturalmente quando c'è la necessità di rivisitare cose atroci del proprio passato si ricorre molto a categorie pagane cioè si ricorre molto a quel bisogno a quella necessità di libertà dell'uomo del singolo del soggetto che è propria del paganesimo ed è antitetica al cristianesimo però io appunto vengo molto colpito da questo tipo di scene e per tolno ripetere proprio per averlo anche vissuto in prima persona non così comunque per carità assolutamente però per cui sono estremamente sensibile a queste cose e mi sconvolgono parecchio per cui anche la mia capacità di giudizio viene meno matta da questo insomma cioè io sono intollerante rispetto a persone che subiscono delle violenze che sono impossibilitate a difendersi impossibilitate di uscire dalla situazione beh mi sembra anche che lo vediate il film inserisce un contesto ben particolare violento e lo rende bene era così cioè non è che il film dica qualcosa di cose che non fossero sia chiaro questo il film dice cose reali cioè fu così andarono così le cose c'era da aggiungere una cosa che è molto importante e voi vedete anche il contrasto religioso perché una scena che nel film scivola via però si sente sottofondo è la predica che fa il prete quando muore la madre di Ophelia cioè della protagonista della bambina e non so se tu l'hai sentito quella predica in cui si parla del silenzio del Dio incomprensibile bene dall'altra parte abbiamo Ophelia che viene in contatto con Pan e questo mondo lì è ben concreto questo Dio non è assente questo Dio lì è presente lei quando viaggia nelle varie realtà va nei vari mondi sotterrani sono le ninfe che l'accompagnano bisogna notare anche un'altra cosa che nel film spesso viene notata è la particolarità di come si presenta Pan Pan si presenta in una situazione che è atroce per cui chiaramente non può essere il Pan che suona il flauto del bosco insieme alle ninfe cioè è il Pan quello che suscita il terror panico quello che inganna quello che truffa è truffa per condurre le persone alla conoscenza che è un modo di essere proprio della stregoneria questo per cui abbiamo una figura di un Pan che è una figura assolutamente in linea con quello che sta succedendo torno a ripetere non è il Pan dei boschi è il Pan che affronta una situazione atroce ed è il timor panico è il Pan terribile è il Pan che si presenta anche sempre al limite della sopravvivenza sempre pseudo minaccioso però le sue minacce non sono mai cattive sono come dei pungoli alle persone perché riescono ad andare avanti perché scelgano e in effetti lui dice sempre alla bambina che sbaglia che ha sbagliato che ha fallito in realtà non lo dice perché la bambina ha fallito ma per stimolarla a scegliere anche contro di lui cioè il Pan che è disposto a farsi c'è la divinità che è disposta che gli uomini gli facciano la guerra purché gli uomini scelgano la vita rispetto alla morte e questo è una particolarità che il film sicuramente c'è la scena finale in cui Pan si presenta cattivo e gli dice versiamo un po' del sangue innocente di tuo fratello e Offelia la protagonista della bambina dice fa no e si rifiuta e poi quando questa prova è conclusa Pan mi dice hai fatto la scelta giusta hai fatto la scelta migliore la scelta che dovevi fare e infatti io scrivendo la voce per Wikipedia sul momento del fauno ho detto che chiaramente la possiamo leggere in contrasto in contraposizione con Abramo e Isacco noi abbiamo una Bibbia che ci viene presentata come libro fondamentale come testo di riferimento in cui Abramo riceve l'ordine dal Dio di sacrificare il suo figlio va e lo uccide e di conseguenza lo uccide perché io parlo dal punto di vista teologico cristiano cioè se noi prendiamo le citazioni bibliche Abramo ha ucciso Isacco dal punto di vista della teologia dal punto di vista della teologia sì l'ha ucciso e di conseguenza questa è la lettura che fa il monoteismo ci viene saltato un libro in cui si dice si può sacrificare l'innocente e l'innocente viene sempre sacrificato nel monoteismo nel cristianesimo perché questo lo dice la follia la pazienza e la criminalità anche di Cristo all'altra parte abbiamo questa prova in cui Pan è contento che si disubbidisca quando la mina dice no io non voglio questo io non voglio versare il sangue dell'innocente però in realtà dopo dimostra e dopo appunto quando si dice hai fatto la scelta giusta e hai fatto la scelta migliore questa è proprio la contrapposizione di conseguenza ci sono anche altri elementi mitologici interessanti nel film però non voglio raccontarvi tutto perciò se avete la possibilità se trovate ancora in giro il labirinto del fauno merita di essere visto oppure perché è un'opera realizzata bene poi tra l'altro noi abbiamo sempre detto che uno può realizzarsi in qualsiasi ambito e il film dà questa dimostrazione per cui abbiamo una situazione ambientale politica militare incredibile eppure nonostante tutti gli ostacoli nonostante le brutture e gli orori in cui vive la bambina la bambina riesce a essere vincitrice riesce a ritornare la principessa che era ma riesce a ritornarlo proprio perché si accorge delle cose c'è la scena iniziale del film che è molto bella comincia quando si devono fermare mentre stanno viaggiando verso l'antico molino in cui dovrà risiedere quel padre appunto quel patrigno trova per terra un sasso che è l'occhio di pan va sulla stella e lo inserisce a quel momento una libellula che è una fata che è una ninfa la riconosce come la principessa cioè è stato proprio il fatto di ricollocare le cose nel loro posto che fa partire e scoprire che è una principessa che deve ritornare nel suo regno questo film merita andate a vederlo proprio perché è un film ben fatto ben realizzato io ho visto un sacco di scene con la mano sugli occhi con il professo ognuno fa i conti con il proprio divenuto con le proprie scelte ma da tono sai anche la prova in cui dice devi scendere in un mondo sotterraneo a recuperare un oggetto magico e gli si dice non devi mangiare niente non ti ricorda Demetra e Persephone nel senso e d'altronde lui ricorda Demetra e Persephone è soltanto quella sola differenza che lei quando va là sottrae invece l'oggetto con cui veniva fatto del male alle persone lei porta via l'oggetto con cui questo personaggio faceva del male alle persone comunque è un po' diversa si però sai dice non devi mangiare assolutamente niente perché se no sei destinata a fallire e d'altronde il suo ritorno al regno avviene tramite la sua morte c'è una lettura simbolica e mitologica veramente bella insomma è un po' un po' complesso Stonehenge la Lourdes della preistoria allora forse Francesco si si vai per un po' di patto su Stonehenge hanno fatto un po' di scavio hanno trovato un po' di ossa sapete che ormai la scienza è in grado anche di non so di fare le radiografie ai morti di 5-6 mila anni fa e ha scoperto che tutti quanti le persone che erano sotterrate attorno a Stonehenge erano persone malate erano persone che aveva bisogno per cui la nuova teoria di Stonehenge è che c'è stato un periodo storico in cui Stonehenge era considerato un posto miracoloso insomma c'era un posto che guariva o non guariva io se fossi voi ci rifletterei un pochino insomma da dove il cristianesimo ha un po' rubacchiato le sue cose sì però visto che tu vuoi un attimino rendere le cose un attimino più tranquille meno emotive sai non sono tre anni che diciamo di tutti gli ascoltatori di andare a Cittadella alla festa dei Veneti ogni anno portiamo sempre qualche portiamo sempre la reiti e qualche nuovo contributo bene dopo alcuni anni è uscito un videogioco realizzato da un gruppo inglese in cui viene chiamato Venezia attacca il Papa ma è solo un videogioco beh al di là al di là della adesso ti interrompo un attimo al di là di quello che può essere l'aspetto grottesco diciamo così però tanto nella storia di Venezia effettivamente Paolo Sarpi e quello che fu la storia di Venezia di allora fece crollare definitivamente quello che era il potere assoluto del Papa vi ricordo che c'è stato Enrico e qualcosa che andò in ginocchio andò a canossa in ginocchio per chiedere scusa al Papa e fu schiaffeggiato non so viceversa ho schiaffeggiato lui il Papa adesso non mi ricordo ma Venezia invece non si piegò e anzi costrisse praticamente la Chiesa Cattolica a piegarsi beh credo che in tutta Italia l'associazione religiosa che maggiormente sottolinea quello che è il carattere della Chiesa Cattolica di agire nella società civile siamo noi Francesco tanto per essere per essere abbastanza papali papà ritornando un pochino per cui in effetti il videogioco mi sembra molto divertente vai si allora appunto questo videogioco creato in Inghilterra si chiama Medieval 2 Total War e viene recensito dice i diplomatici possono negoziare alleanze le principesse sposare re stranieri per assicurare la fedeltà i preti portare la parola di Dio tra gli infedeli e proprio la religione il punto focale del gioco riuscire a eleggere un proprio candidato al solio pontificio magari ungendo qualche cardinale a un basciatore straniero è la chiave del successo e appunto questa è l'ambientazione appunto si chiama Medieval il gioco ed è ambientata nel periodo tra il 1080 e il 1530 e si dice appunto nel sottotitolo dell'articolo un team inglese fa rivivere le glorie della serenissima come vedete sarebbe stato immaginabile qualche anno fa forse che qualcuno facesse un videogioco in cui la Repubblica di Venezia la serenissima veniva ricordata per la sua lotta secolare e continua contro le influenze malefiche e negative del Vaticano e della Chiesa Cattolica bene dopo tre anni di festa dei Veneti a Cittadella dopo il grande successo che questa festa ha avuto da cui bisogna ringraziare anche gli amici di Reise che hanno sempre organizzato in maniera veramente bella ma veramente grande anche all'estero qualcuno comincia a fare un gioco in cui la storia veneziana viene ricordata viene portata avanti viene ribadita e si fa notare che chi muove chi vinse non è la Chiesa Cattolica non è il Papa ma è la Repubblica serenissima e questo da sperare per il futuro significa che muovere qualche piccolo passo qualche piccola iniziativa pensare più alla cultura e alla religione e meno alla politica nel senso partitico è più produttivo perché quanti energie sono state spese in politica e non hanno prodotto niente bastano poche energie ben realizzate sapete pensatevi in Inghilterra dicono facciamo un nuovo videogioco e facciamo che la Repubblica di Venezia attacca il Papa non è un investimento da poco dal punto di vista economico non penso che ci siamo svegliati una mattina ma cosa ci inventiamo penso che abbiano valutato anche le condizioni commerciali di poter vendere questo gioco che abbiano valutato le condizioni anche politiche le condizioni ambientali per non ruotare le sensibilità e il fatto che si sia scelto non un'epoca di fantasia non un'epoca immaginaria non un'epoca medievale non meglio ben collocata ma che si sia scelto concretamente la Repubblica di Venezia e che si faccia questo videogioco bene è un segno positivo penso che grandi partiti che si dovevano occupare delle culture locali delle varie etnie dei vari popoli hanno venduto i loro patrimoni o non ci hanno mai creduto persone che ci hanno sempre creduto sono uscite anche probabilmente a incongueto successo a questo successo noi abbiamo dato il nostro contributo ricordando la Dea Reitia e voglio ricordare beh l'ha già annunciato qualche settimana fa il professor Borsetto sta scrivendo un libro sulla Dea Reitia e questo libro si è pubblicato da Reisa Venete perciò come vedete se si riscoprano le proprie origini la propria cultura i propri legami quello che è sul territorio sicuramente si fa una cosa grande e non c'è neanche bisogno di separare noi da altri sì perciò l'importante è riscoprire le proprie radici la propria cultura e non serve che siano a farlo gli altri ma l'importante è che lo facciamo noi che non siamo a chiedere ai politici di turno o a chissà che ma dacci la cultura la cultura viene costruita dalle persone dai popoli dai singoli dalle piccole comunità ognuno di noi deve cominciare a costruire la propria cultura e riscoprire la propria cultura e portare avanti la propria cultura il problema è che quando poi giochiamo col termine di riscoprire le proprie radici ognuno ci gioca sopra no? nel senso abbiamo un Ratzinger che dice salvaguardiamo le radici cristiane il messaggio del pontefice e i rappresentanti dei settimanali cattolici ricevuti a Roma però dall'altra parte dico salvaguardiamoci le nostre radici gli scimpanzè preferiscono le attempate studiogusa femmine più anziane assicuro una progenie migliore allora perché ho usato questi due estremi perché da uno che vuole salvaguardare le radici cristiane e io che voglio salvaguardare le radici divenire della specie e da dove veniamo c'è in mezzo uno spazio enorme dove ognuno può scegliersi le proprie radici ma l'importante è quando abbiamo scelto le nostre radici quale futuro vogliamo fondare cosa vogliamo guardare cosa significa radici cristiane cosa significa radici degli scimpanzè cosa significa radici dei veneti di Reitia cosa significa guardare la rivolta della Repubblica Veneta quando guardiamo le radici non lo facciamo per vedere il passato per considerare il passato ma lo facciamo sempre in funzione del futuro ricordiamocelo questo sì diamo anche un'altra direzione noi pensiamo sempre che le persone vadano avanti se hanno la capacità se hanno la volontà e se hanno una società una cultura un ambiente uno stato che li sostenga e quello che mi viene da pensare è che leggendo sul periodo della sera di domenica 26 novembre il fatto che negli Stati Uniti si scopra l'educazione separata tra ragazzi e ragazze